E la carne? Troppo buona! E gli hamburger? Buonissimi! E la musica? Rigorosamente dal vivo! E la birra? Da volar via! Perché Carlo Barbieri, Forza Italia, non è così spesso in piazza a distribuire volantini? Perché noi risolviamo i problemi. Perché io credo che la raccolta firme sia un qualche cosa di assolutamente artificiale. I problemi devono essere risolti, non devono essere potenziati. Una risposta a quella che l'ex sindaco Carlo Barbieri ha dato nel corso dell'intervista ad Occhio Pavese di mercoledì, che non è piaciuta a Pierezio Ghezzi e Fabio Aquilini, da sempre impegnati in presidio e nelle raccolte di firme per sensibilizzare cittadini ed amministrazione in merito ad alcuni disagi. Ed è proprio durante il presidio di protesta in strada grippina, a causa dell'alta velocità con cui circolano le auto che passano nella downtown vogherese, che abbiamo chiesto ai due leader un parere sulle dichiarazioni di Barbieri. Ho sentito l'intervista, devo semplicemente rispondere a quello che ho sempre detto. Io credo che la politica svolta con questo pensiero è la politica che ha creato la distanza con il cittadino. Credo che la politica debba scendere in piazza, la raccolta firme, queste cose qui. Sicuramente, non essendo nella maggioranza, non si decide, ma sicuramente si dà dimostrazione al cittadino di poter essere vicini. Sicuramente il problema l'ha enfatizzato lui non risolvendolo. Noi crediamo che se un cittadino decide di apporre la propria firma e chiede ai rappresentanti dell'amministrazione, come hanno chiesto a noi, a me, a Gallotti e all'Italia del Rispetto, noi due siamo consiglieri comunali, di intercedere perché loro ritengono che questo sia un problema e lo è, perché se ci sono dei morti e mezzi è un problema, noi rispondiamo in maniera positiva. Barbieri può assumere la decisione che vuole.